È Roberto Mancini, il nuovo presidente dell'EASP di Gualdo Tadino, l'ente assistenziale per anziani, che è stato presentato quest'oggi dal sindaco Massimiliano Presciutti, con accanto il neoconsigliere del CDA Barbara Bruno. Insieme a Fabrizio Notari, assente per motivi di lavoro, vanno a sostituire il presidente e i due consiglieri dimissionari a pochi giorni dalla loro nomina, ovvero Giancarlo Tittarelli, Angelina Iaquiniello e Marco Pannacci. Dimissionari perché dipendenti ASL, la quale ha comunicato loro che in base ad una serie di normative vigenti dal 1991 e confluite nel regolamento interno aziendale del 2013, i loro ruoli all'interno dell'EASP sono di fatti incompatibili con i rispettivi contratti di lavoro. Da qui la decisione di restituire al sindaco le nomine affidate. Restano al loro posto gli altri due consiglieri precedentemente nominati, Emanuele Moriconi, già candidato alle elezioni nella lista a sostegno di Presciutti, rinnovamento per Gualdo e Gianfranco Bazzucchi. Sale dunque alla guida dell'EASP Roberto Mancini, ex dipendente ASL, oggi in pensione, già consigliere comunale di area democratica, che promette lavoro di squadra nella gestione dell'ente assistenziale. Accanto a lui tra i nuovi consiglieri Barbara Bruno, già candidata della lista Movimento 30 Aprile a sostegno di Ermanno Rosi e Fabrizio Notari, già candidato nella lista Gualdo Cambia a sostegno del sindaco Presciutti. Un ente l'EASP atteso da grandi trasformazioni in vista della riattivazione del polo sanitario assistenziale dei Calai, per il quale ha dato esito positivo il sopralluogo dell'ASL lo scorso 30 settembre. Se non sarà più trasferito presso la struttura ospedaliera, restando dunque nella sua sede di Via 5 Luglio, tuttavia dovrà ripensare se stesso alla luce di posti di RSA che, malgrado le rassicurazioni dall'alto, rischiano di scemare all'indomani dell'attivazione di quelli presso l'ospedale di Branca. Si punta sul potenziamento della RP, la residenza protetta che l'azienda sanitaria ha promesso di ampliare.